Ora diciamo era un modo per incominciare a sensi di quali sono le strategie, quali sono i progetti, quali sono le regole di un programma, che quali fossero le criticità all'interno di questo progetto e come un gruppo di cittadini attivi, di cittadinanza attiva, fatto di operatori, di giornalisti, di progetti universitari, di appassionati e di artisti potesse intervenire per migliorare questa condizione. Anche in maniera propositiva, naturalmente, le cose che non funzionano, che sta sempre più diventando un'organizzazione, anche se si investe un euro devono tornare un certo numero di risultato, la cultura è stata economia dei luoghi e come può soprattutto, come dire, sostenere e sviluppare la produzione del posto. C'è stata proprio in questi giorni... Siamo qui per chiudere questo ragionamento sulla cultura che abbiamo avviato a dicembre 2013 e ai giornalisti di valutare insieme a noi questi focus su alcuni, può iscriversi al forum di un'associazione e vorrei passare la parola al professore Vittorio Lini che vi sarà d'aiuto certamente in questo nostro ragionamento. Grazie. Ricerca di identità con il popolo di una città, con la popolazione di una città. La cultura è qualcosa di anche... La cultura è un punto, la cultura... La cultura è un principio, non serve nulla, ma è quello che ci interessa. Questa è la prima considerazione. Guardo invece...